Mentre Regione Lombardia pensa alla fase 2, anche le grandi catene di distribuzione alimentare iniziano a ripensare il proprio futuro, costrette anche loro a dover fare conti con questa nuova normalità, dalle code alle casse alle code chilometriche fuori dai punti vendita. Ed è proprio per questo che super e ipermercati, colpiti anche loro in pieno dall'emergenza Covid-19 e impreparati a gestire l'impennata di ordini online e consegni a domicilio, stanno mettendo a punto nelle ultime settimane idee, piani e nuove soluzioni che vadano a tutelare la salute di consumatori e lavoratori. Tra le iniziative, da qualche giorno Coop ed Esselunga per arginare il problema delle code chilometriche, sono partite con alcune sperimentazioni digitali per cercare di azzerarle. Anche se non ancora in via ufficiale, in alcuni punti vendita di Esselunga a Milano, come il supermercato di Viale Umbria e quello di Via Feltre, si stanno già facendo le prime prove. Attraverso l'applicazione U-First è infatti possibile usufruire del servizio di coda virtuale. Ci si registra, si sceglie il punto vendita e si viene automaticamente inseriti in una coda online, aggiornata continuamente dall'applicazione che segnala quante persone ci sono prima del proprio turno. E 10 minuti prima dell'ingresso arriva una notifica che dà all'utente il tempo necessario per arrivare al punto vendita, saltare l'eventuale fila ed iniziare la spesa. Per la coda online, la Coop sta sperimentando invece un sito internet nel quale, dopo aver scelto il punto vendita, si può anche selezionare la fascia oraria predefinita, così che il cliente possa andare a fare la spesa all'orario prestabilito, mostrando all'ingresso la prenotazione. Al momento il servizio è attivo all'Ipercop di Bonola, Piazzalodi e Baggio e nelle Coop di Milano-Palmanova e Milano-Arona. Anche Conad pensa già alla fase 2, distanze sociali, uso per i clienti di guanti di lattice sotto quelli usati per l'ortofrutta, visiere e occhiali per il personale, pensiline all'esterno per permettere a chi è in fila di ripararsi da sole e pioggia, aperture domenicali e orari allungati anche fino alle 21.30 per evitare gli assembramenti. Il tutto parallelamente al potenziamento dei servizi di e-commerce e spesa online, che tutte le grandi catene di distribuzione alimentare stanno cercando di mettere a punto.